Peter, oramai si chiude e si chiude la crisi con i responsabili, lunedì, martedì? Martedì? Non lo so. Che dici? Se verrebbe, però io finché non vedo in uffia... Com'è che diceva, tra pattoni, finché non dire quattro, finché non lo hai nel sacco. Quindi sarà meglio stare prudenti. Cioè, vediamo se poi i numeri ci sono o no. Luca, scusami, mi dici invece se ci sono novità sul DPCM da parte del governo? Sì, Tiziana, il DPCM dopo l'ultima trattativa di ieri sera, a margine del Consiglio dei Ministri sullo scostamento, è stato firmato poco fa dal Presidente del Consiglio. Sono 29 pagine che riscrivono in parte le regole delle tre fasce che abbiamo finora conosciuto, rossa, arancione e gialla. Si introduce anche la fascia bianca che per ora resta un miraggio per tutti, visto anche i dati che ci dava Rosa dal Ministero. Tra le novità il prolungamento del blocco di spostamento tra una regione e l'altra fino al 14, fino al 15 febbraio. Ricordiamo che il DPCM invece sarà in vigore fino al 5. Poi si parla anche di scuole. In presenza al 50% dei superiori, da lunedì, fino al 5 marzo, sì. In presenza alle scuole al 50% nelle regioni gialle e arancioni, da casa invece dalla seconda media in poi nelle zone rosse. Poi come sapete c'è il blocco all'asporto per le bevande alcoliche dopo le 18. sono alcune novità che si introduce il DPCM che dettaglia il degredo legge già varato dal governo.